con lo sapevi che dalla sexy gelataglia Anna Mocanu Allora Anna Mocanu sei pronta per leggerci la nuova rubrica lo sapevi che eccola qua un paio però perché siamo veramente un paio perché siamo strettissimi con i tempi e abbiamo già gli ospiti pronti qui davanti Allora lo sapevi che un uomo su quattro tiene la luce spenta durante il sesso Un uomo su quattro tiene la luce spenta durante il sesso E per quale motivo? Basta 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 non vediamo se per le altre No aspetta la di l'altra Sì in Libano un uomo può avere rapporti sessuali con un animale a patto che sia femmina In Libano? Sì ovviamente non vale la stessa regola per le donne Cioè un uomo in Libano può fare sesso con un animale? Sì A patto che sia femmina Ma che dici? Non è possibile Ho capito In Libano un uomo può fare sesso con un animale a patto che sia femmina A patto che sia femmina se lo fa con un animale maschio Però per le donne non vale quindi a patto che sia maschio o femmina non c'entra Non lo devono proprio fare Tutte le carine che ci stanno qua Allora il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale in nove stati dell'America È legale in nove stati? Sì Ok Fare sesso con un cavallo è legale in 23 È illegale? Sì Cioè quindi fare sesso con un cavallo è illegale in 23 paesi ma non in tutti? No Praticamente si parlava che il matrimonio tra i gay è legale comunque in nove stati Mentre fare sesso con un cavallo è legale in 23 Vabbè è fantastico dai però adesso Emiliano se sei d'accordo andiamo avanti perché è veramente molto molto tardi Ringraziamolo Sexy Gelatai e Anna Mocanu Anna Mocanu Lo sapevi che grazie Anna